Qual è la tua qualità migliore? Dribbling Il tuo difetto più grande? Di testa Ti alleni e studi di più? Mi alleno di più Materia preferita? Non c'è Un aspetto positivo del rimini calcio? Conosco i miei amici da tanto tempo Un aspetto negativo? Nessuno Chi è il tuo idolo? Messi Scuola del cuore? Inter Come li trovi con i tuoi compagni di squadra? Benissimo Descrivi il rimini calcio in tre parole Bello, divertente Va bene anche due Come esulti quando fai gol? Normale Qual è la partita più bella che hai giocato? Misano Rimini E' finita? Quattro pari Qual è la partita più brutta che hai giocato? La partita più brutta che ti ricordi? Non la so Hai mai pianto per una partita di calcio? Sì Qual è il momento in cui hai sentito più tensione in campo? Quando perdo mamma Per la stella Ok, scozzo per perdere per la stella immagina Meglio vincere giocando male o perdere giocando bene? Perdere giocando bene Singolo o fidanzato? Singolo Moro o bionde? Bionde Bello o intelligenti? Intelligenti No, ma no No, dai Pensi che questa intervista ti aiuterà ad avere successo con le ragazze? Può darsi Neuer o Deghea? Deghea Buffon o Casillas? Eh, Buffon Qual è il portiere più forte della storia del calcio? Secondo te? Buffon Il tuo idolo tra i pali? Buffon E' il terzino destro a cui ti ispiri? Il terzino a cui ti ispiri in generale? Magari anche a sinistra Danielos Ti piacerebbe affrontare? Ok Cristiano Ronaldo Messi 17, 18, 19, 20 E' il terzino a cui ti ispiri in generale? E' il terzino a cui ti ispiri in generale? E' il terzino a cui ti ispiri in generale? E' il terzino a cui ti ispiri in generale? E' il terzino a cui ti ispiri in generale? E' il terzino a cui ti ispiri in generale? Grazie.